In collegamento Skype al VG21 questo pomeriggio, Lucia Fortini, Assessore all'istruzione, alle politiche giovanili e sociali, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Assessore, le rivolgo subito a una domanda che sta particolarmente a cuore a moltissime famiglie della Campania. Quando nella nostra regione apriranno le scuole? Come avete detto nel servizio, giovedì ci sarà un incontro con i sindacati. In realtà, voi sapete bene perché ne abbiamo parlato nel corso degli ultimi mesi, la regione Campania era orientata ad aprire le scuole, ad avviare l'anno scolastico il 24 settembre dopo le elezioni. Poi con un tire e molla col governo, il fatto che Arcuri fosse stato nominato commissario straordinario per l'avvio dell'anno scolastico, eravamo tornati sui nostri passi. La situazione ovviamente non ci faceva particolarmente piacere, ora però naturalmente stiamo aspettando la consegna del materiale che ci era stato promesso e che purtroppo non è ancora arrivato. È fondamentale naturalmente che ci sia distanziamento nelle classi, anche perché i nostri studenti non possono resistere per ore con la mascherina, anche quando sono appunto seduti al banco. Per questo abbiamo avviato una riflessione anche rispetto al fatto che purtroppo la percentuale di personale scolastico, docente e non docente che ha fatto il tampone non è ancora alta. Per questo il Presidente De Luca, come avete giustamente detto, sta pensando ad una ordinanza che lo renda obbligatorio. Insomma, giovedì naturalmente prenderemo una decisione, ma ad oggi non ci sono secondo noi le condizioni per avviare l'anno scolastico il 14 settembre. Volevo però precisare una cosa che credo sia particolarmente importante. Il calendario scolastico è una competenza della regione, delle regioni. Lo dico perché naturalmente delle ordinanze, delle eventuali ordinanze dei sindaci potrebbero invalidare l'anno scolastico, che deve avere al proprio interno 200 giorni. Quindi non è che si possa semplicemente dire che si può posticipare l'apertura di 10 giorni o di un mese. Nel caso in cui non fossero compresi nel calendario scolastico 200 giorni, l'anno non sarebbe valido. Lo voglio dire ai sindaci perché non commettano un errore che possa poi in qualche maniera ricadere naturalmente sui nostri studenti. Tutto ci fa pensare che l'anno scolastico ripartirà il 24 anche in Campania, ma comunque dal punto di vista della sicurezza, dei banchi, della sanificazione, come la regione si sta organizzando? Come sapete non è un compito della regione quello di far arrivare gli arredi, piuttosto che mascherine, gel, che devo dire già è stato distribuito in molte scuole, mi riferisco appunto sia al gel igienizzante che alle mascherine, anche seppure la regione si sta facendo carico comunque della distribuzione per le nostre scuole attraverso la protezione civile. Quindi sicuramente questo lo faremo. Soprattutto abbiamo avviato la procedura per l'acquisto di termoscanner. Assolutamente non siamo contrari al fatto che la temperatura dei nostri studenti venga misurata prima della uscita dello studente dalla propria abitazione, ma riteniamo che la possibilità data alle scuole di misurare la temperatura prima che lo studente entri in classe sia un'ulteriore misura che ci può dare tranquillità. Noi vogliamo cominciare l'anno scolastico sicuramente, lo abbiamo detto dal principio, ci stiamo attrezzando per questo, ma vogliamo che avvenga in sicurezza perché la cosa peggiore che possa accadere naturalmente sia aprire le scuole e richiuderle subito dopo. Questa tra l'altro è stata una strategia dal principio che ha utilizzato il nostro presidente Vincenzo De Luca, quindi continueremo su questa strada. E devo dire, oltre al fatto di rendere obbligatori per il personale scolastico, quindi nell'intenzione del presidente attraverso un'ordinanza, stiamo riflettendo sulla possibilità di fare test anche sui nostri studenti, in particolare delle secondarie di secondo grado, su base volontaria per carità, però perché l'età delle persone che risulta poi positiva al coronavirus si sta abbassando sempre più, noi dobbiamo sicuramente tutelare i nostri studenti, ma anche naturalmente il nostro personale scolastico, e quindi siamo orientati anche... Assessore, un'ultima battuta, rapidissima, in chiusura, il fiore all'occhiello del suo mandato, il progetto Scuola Viva, che ha visto le scuole aperte anche al pomeriggio con tante attività, lei è candidata alle prossime elezioni regionali con la lista De Luca presidente, da dove ricominciare? Ricominciare da dove siamo partiti, è stata un'esperienza, devo dire, entusiasmante, aprire le scuole al pomeriggio, dare delle risorse e delle opportunità ai nostri studenti, ai nostri dirigenti, ai nostri professori, ripartire dalla comunità che abbiamo costruito in questi anni, credo sia stato fatto un lavoro straordinario, non lo dico perché l'ho fatto io, ma perché, come dire, ho incrociato tante persone che hanno voluto percorrere un pezzo di strada insieme, continueremo naturalmente su questa strada. Grazie Assessore per essere stato ospite al VG 21, in bocca al lupo. Viva il lupo!